buongiorno buongiorno un cazzo ma perché perché la giaffanculo no 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 e baci baci sì 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 ma fa culo dove è che capello al galusto ma dove 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 stanno qui così mattina vi ricordiamo che nella vita c'è chi parla e c'è chi ferma te dio c'è il bar che stanno a controllare ma stanno a guardare stanno a guardare ma non c'è bello oggi sia particolarmente bello capito se ti fa lo zoom ma qui qui è lo zoom ma allacciamento sandalo mattina colazione rigorosamente con marmellata di figa ecco guardate che è veramente buona e almeno no inizia bene la giornata fa 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 che se fa 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 va via nonna che lava le spalle al nonno c'è ragazzi una delle cose più belle che possono esistere lui la chiamata ed è andata la lavare le spalle intanto questo è lupico non è lui certo l'ho schiso guarda come schisa ragazzi guarda come schisa si 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 come per i cantanti gli ha fatto e messo fuori il carrettino la nonna adesso vanno al mercato fa 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 scasa intanto fa o no nonno o no stai guarda la sorca o che stai guarda l'educazione sempre grazie e salutare sempre a ora che macchinetta oggi è la coccodrillo carla c'era viziata eh abbiamo l'esposizione ah comiche erano scappati i cani ci pensa maria rock rock ah c'è la chiara la calappia cani qua questa mattina con tommy che andiamo a fa tommy un po di wake un po di wake ah che bello non era mancato siamo al lago trasimeno venite la trova a tommaso grande tommy nocciolina scatenata oggi nocciolina scatenata tavola abbastanza grossa abbastanza pronta più pronta anche grossa di te sicuro e adesso sfideremo il lago nocciolina nocciolina vi lo consiglio è super wake eh divi attentissimo finito ora qua c'è nocciolina è la prima volta quindi è un po difficile però veramente veramente top sempre più si attraverso ci si attraverso notare per neanche l'esposizione ma che si ora Mi hanno detto che sono migliorato tanto dopo i tuoi insegnamenti Eccolo il maestro Ciao Piffa Siamo morbidi eh Numero uno Swipe così con il ditino Tutti quanti Ti ha una sorpresa Una sorpresa su Youtube Il giro integrale Con Elisabetta Franchi nella Abarth Swipe Grande Ciao Chi è questo bambolotto? Come fa la mamma? Dietro il E Mauro che siamo? Guardi avanzi nel divano? No no Com'è? Tocca al pelo andai tocca al pelo 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 Com'è? un amico specialissimissimo più fa ma c'è Andreoni sulla macchina? dove sta Andreoni sulla macchina? c'è più Andreoni? dove è? eccolo andrà partito con la mia macchina fai il dispetto vai vai dai dai più forte suona suona come la maniglia? cascio 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 il pulsante preferito da Andreoni vai 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 quanto ti piace sto pulsante? Ah che cazzo! Dio buono, di qui in piove ma il temporale è arrivato! Ma mica ce l'ho con lui! Ce l'ho con il nonno! Il nonno che gli dice cazzo! Che gli dice niente! Io non la dico è cosina! Ricordiamo questo è il teatro improvvisato, gratis e aperto sempre, tutti i giorni! E c'è anche l'attore che si è montato la testa! Ma dici che c'è? C'è il cincillato! Tutto a me non mi tocca! Quelle sono le vasagnolate di Maria! Tutto a me non mi tocca che il don fa povera! Ti ricomando il canale ce l'hai tutta in due su! A che ora? No, la torna è un arvolio! Quando? Questo è il pelo di chi è? Questo sta per me che il vento è il don del muso! Ma... Tu e sto stronzo! Lumaca! Paolo! Lumaa! Rotino! Sona! Paolo! Come detto anche... Detto anche plumaca! Lumaca! Perché va molto piano! Che dicevo del padre! Stai 10 minuti qua è... Eeeh! 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 E dicevo del padre lumaca! Mamma mia! Maaaah! Ecco! Ti avrei dar guido subito! Eeeh! La moglie col bastone! Dice sempre che la moglie ti ha messo il bastone! E che sei? Sei tu che fia il bastone! No! Perché una volta doperavo le mani! Non è il bastone! Il c***o della cataratta è meglio? E certo! È meglio? Beh! E che bene? Vedo i testati cazzo come loro! Uuuuuh! Sboccacciato! Eccolo! E si ecco questo c***o! Oh! Preciso! Rapido! Sempre! La parolina giusta! Sempre! Giusto! Sempre! Ah! Stai a guardare o no? Ma non ne so che guarda! Non c'è niente! Stavo a guardare! Ho cominciato da l'uno! Guardavo giù! Arrivo fino a 56! E dopo? E dopo vedete! C'è qualcosa che mi piace! Non c'è qualcosa che mi ne ho! Papa si è dimesso! Va via! Ma dai! Va via! Dall'ospedale! Ma dai! Si è tornato! Stai bene il parococco! Ho pregato tanto per lui! Perché lui? Per lui si! Per lui! Ma lui che fa? Lui ha letto a casa! Ma che fa? Che fa? Che fa? Ti ama? ah ma io ti mi parlo sotto come me come te oh bravo papà dai speravamo che inserito quasi perso le speranze perché ogni volta che riprendo la macchina mia c'è un palmo questa l'ha presa mia sorella guardate come guida ma come fa manco i puffi porco cane se dire che l'ho tirato indietro quando parcheggiano anche se è in piano mettono su p più questa qua così quando va accende metti su d tranquillo tu e te fanno fai stol tu vorresti andare avanti ma la macchina fa così perché mettono sempre tutti sti cazzo dei freni che manco se parcheggiava sull'everest proprio inclinata scende la macchina classicone proprio di quelli stra classici aria condizionata staccata cioè se crepa se crepa stacca l'aria condizionata seccatoio serra life proprio e che c'è il massimo perché il muflone umbro eccolo eccolo com'è sta cena finora non gli ho chiesto il vino com'è sta cena ci abbiamo qua ma che cazzo ce frega mamma mia va là fuori dai